Con 125 anni di storie e due giorni di convegno, il 18-19 febbraio, per celebrarli mettendo a confronti i modelli di ospedali pediatrici in Italia, da Torino a Palermo, passando per Roma, il Cesare Arrigo di Alessandria è al centro del paese. Sono tantissimi gli ospedali, direi che c'è un ospedale pediatrico per ogni regione e saranno rappresentate comunque tutte le regioni e il Ministero e l'Agenzia Nazionale, oltre che naturalmente eccellenze del Piemonte, proprio per un confronto. Il pomeriggio di venerdì, in maniera riservata, ci sarà una riunione della rete degli ospedali pediatrici, dove discuteremo appunto del futuro, ma anche della rete delle sperimentazioni cliniche. Una festa importante, iniziata con la presentazione ufficiale delle nuove apparecchiature tecnologicamente avanzate in dotazione alla terapia intensiva neonatale. Anche una cena su una nave da crociera della compagnia Silver Sea a Portofino, per centrare un altro importante obiettivo della fondazione ospedalette. Un progetto ambizioso, del valore di 85.000 euro, poi arrivati a 100.000, grazie alle generosità di benefattori e donatori. Oggi inauguriamo l'attrezzatore per la terapia intensiva neonatale. E' un traguardo che abbiamo raggiunto. Siamo molto contenti e approfitto l'occasione di ringraziare tutte le persone che ci hanno dato mano a questa realizzazione. Quanto è importante la solidarietà nei confronti della sanità, in particolare in questo caso dei bambini? Beh, è importante, adesso non voglio dire, anche la mia famiglia se ne occupa, per altri versi. E' importante perché quando uno può avvicinarsi a delle cause che essendogli vicine affronta con una maggiore sensibilità, ci mette un impegno in più. Naturalmente quando si vengono a conoscere delle cause così meritevoli, ci si dà da fare.